Pattern di comunicazione a messaggi publish-subscribe con RabbitMQ Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo ad analizzare l'implementazione del template publish-subscribe nella comunicazione a messaggi con RabbitMQ Nelle moderne architetture distribuite e in particolare nelle architetture a microservizi la comunicazione a messaggi è una componente molto importante soprattutto tra i microservizi cosiddetti interni che devono scambiarsi messaggi in modalità asincrona ecco che quando un microservizio, una componente vuole aggiornare altri che è successo un qualcosa è accaduto un evento di cui loro dovrebbero essere a conoscenza il pattern publish-subscribe è molto utile e lo vediamo come implementarlo il concetto è questo, siamo nel nostro back-end di un ipotetico e-commerce implementato a microservizi immaginiamo che il microservizio dedicato a gestire il profilo di un utente riceva dall'utente stesso un aggiornamento, che ne so, del proprio indirizzo o delle informazioni, di una qualunque informazione del profilo in generale e è necessario che questa informazione, questo aggiornamento venga propagato per esempio a quello che è il basket cioè quel microservizio che gestisce il carrello e anche magari al microservizio che gestisce gli ordini, che hanno un sottoinsieme delle informazioni degli utenti per esempio possiamo immaginare che quello degli ordering abbia l'indirizzo di spedizione o le informazioni di pagamento quindi vediamo un attimo cosa succede riceviamo dall'interfaccia web, qui dalla sinistra, il comando magari l'utente ha premuto un tasto di salva informazioni e abbiamo l'update user command questo microservizio che gestisce le informazioni utente salva a fase 2 i propri dati nel suo database dedicato a questo punto fase 3 manda un messaggio non deve mandare il messaggio a tutte le persone interessate a tutti i microservizi interessati perché in questo dato momento magari sono semplicemente due microservizi ma mano a mano che la piattaforma evolve o cambia potrebbero calare o potrebbero più probabilmente essere un numero maggiore i microservizi interessati a questo genere di evento ecco che una best practice quindi è di pubblicare il messaggio su un canale in questa maniera il produttore non deve preoccuparsi di quanti sono i microservizi interessati a questa informazione e non lo devo modificare ogni qual volta si aggiunge o si toglie un interessato a questo evento lui semplicemente si preoccupa di pubblicare un messaggio in questo canale che si chiama BUS quindi un canale di comunicazione di eventi che viene dedicato appunto a un modello publish subscribe quindi qualcuno che pubblica e ci sono poi delle persone iscritte e sottoscritte a questo evento fase 4 gli iscritti a questo evento su questo canale ricevono ciascuno di essi moltiplicato una copia dedicata di questo messaggio di questo evento un messaggio che rappresenta questo evento qui in particolare abbiamo user updated event e il basket farà quello che serve di queste nuove informazioni quello che gli serve a lui e l'ordering microservices microservice altrettanto prenderà le informazioni aggiornate dell'utente e farà ciò che è utile per lui ecco andiamo nel dettaglio di rabbit in queue e vediamo come è fatto bene eccoci qui allora alla lavagna e vediamo il pattern publish subscribe con uno schema per capirci meglio allora siamo in questo contesto abbiamo un publisher qui in azzurro che vuole pubblicare un messaggio a tanti ascoltatori senza che debba preoccuparsi di quanti siano nel dettaglio che ci sia un ascoltatore che ce ne siano 20 mille al publisher non importa lui vuole mandare un messaggio in un punto noto in modalità tipo set and forget io lo metto e poi me ne dimentico ritorno a fare quello che devo e gli ascoltatori o chi è interessato poi dovrà agire come gli pare allora come ragiona il publisher? il publisher non pubblica messaggi direttamente nelle code anche perché sostanzialmente non sa quante ce ne sono allora in rabbit c'è quello che si chiama un exchange che lo vediamo qui in blu un publisher manda in generale comunque negli usi veri e propri di rabbit si mandano i messaggi agli exchange gli exchange sono degli oggetti che ci permettono di appunto ricevono a sinistra qui dei messaggi e a destra li sparano fuori e sono configurabili, permettono di avere, hanno molti comportamenti e permettono di creare delle regole quello che noi interessa per implementare il pattern publish subscribe è la configurazione che all'interno di rabbit o comunque in generale in gergo delle code si chiama fanout il fanout vuol dire che noi andiamo qui nell'exchange e gli andiamo a dire che vada a propagare, a moltiplicare i messaggi a tutti quei consumatori e tutti quei client che si sono agganciati alla sua destra vada a moltiplicare il messaggio a tutti quanti in maniera tale che ciascuno ne riceva una copia nella sua coda nella sua coda possiamo quindi immaginare, facciamo un esempio, dell'abbonamento del topolino il distributore del topolino chi produce il nuovo numero del topolino lo manda al distributore non si interessa direttamente il produttore di quanti abbonati ci sono al topolino lui deve solo stampare delle copie o magari una copia poi abbiamo il, o dare il file al distributore e poi il distributore si arrangia a moltiplicarlo e a consegnarlo a casa a tutti gli abbonati ecco il nostro distributore è l'exchange in questo caso è sulla destra qui abbiamo gli abbonati che sono le singole persone abbonate al topolino ecco noi vogliamo fare la stessa cosa con le code entriamo quindi nell'ambiente di sviluppo e vediamo come si implementa e lo vediamo funzionare con dei semplici messaggi ovviamente non con il topolino allora vediamo subito le cose in movimento poi commentiamo il codice faccio partire il publisher e qui aspetta un messaggio quindi metto B e invio questo messaggio ho qui aperto all'indirizzo localhost 15672 il portale di Rabbit e posso andare a vedere negli exchange che si è creato l'exchange topolino in configurazione fanout come abbiamo spiegato prima e è arrivato un messaggio ok qui c'è stato un attimo un picco nell'ultimo minuto ma non c'è nessuno collegato a questo exchange quindi sostanzialmente questo messaggio è andato perso perché non c'era nessuno a cui consegnarlo va bene allora noi adesso andiamo dentro l'ambiente di sviluppo e facciamo partire un subscriber subscriber partito ci metto in fianco anche il publisher quindi scrivo A ecco che il publisher è il receiver il subscriber riceve A quindi io posso mandare i miei messaggi andiamo a vedere che cosa succede lato Rabbit quindi l'exchange ci sta mostrando che oltre che far entrare i messaggi abbiamo anche il publish out perché si è collegato un client ok eccolo qui lui è ovviamente alla sua coda dove vediamo tutte le statistiche relative all'ingresso e all'uscita di messaggi quindi rivediamolo un attimo qui posso anche se sono veloce per 5 secondi ecco riusciamo a vedere i numeri della 3 messaggi al secondo in ingresso alla coda di qua ok idem più o meno se mi metto lo vediamo nell'exchange eccoci qua facciamo partire un'altra istanza di subscriber gli mettiamo 1 poi gli mettiamo 2 sono qui vicini e poi gli mettiamo 3 mettiamo il publisher da questa parte ok abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vediamo che i messaggi arrivano da entrambe le parti stanno arrivando ok benissimo cosa è successo lato Rabbit lato Rabbit accade che l'exchange ci dice che ci sono due binding quindi ci sono due code collegate e andiamo effettivamente a vederle eccole qua e i messaggi vengono duplicati appunto entrambe le code collegate andiamo a vedere il codice allora qui siamo nel publisher ok che cosa fa? semplicemente il publisher dichiara la connessione ovviamente stiamo utilizzando la libreria già fatta da RabbitMQ RabbitMQ Client ufficiale scaricata come pacchetto Nougat messa come dipendenza in pacchetto Nougat utilizzo le istruzioni per creare una connessione come da documentazione ufficiale dopodiché dichiaro l'exchange dove pubblico i miei messaggi con impostazione fanout quindi faccio channel exchange declare gli do il nome è topolino perché pubblico topolini e faccio il fanout quindi la moltiplicazione a tutti i subscriber che si iscriveranno a questo exchange niente di particolare in un ciclo infinito leggo ciò che viene messo dall'input utente in testiera decodifico in utf8 in un array di byte e via in un array di byte e mando il messaggio faccio un back con un basic publish nell'exchange vedete che non la pubblicazione se guardate il video precedente veniva fatto una pubblicazione su una coda qui in realtà l'utilizzo è più proprio e si fa una pubblicazione su un exchange mentre per quanto riguarda il subscriber fa una cosa molto simile utilizza anche lui la libreria rabbit and queue client imposta la connessione dichiara l'exchange dove si vuole mettere in ascolto così nel caso non ci fosse verrebbe creato dichiara una coda questa volta sì perché io sono il ricevente e quindi voglio dichiarare voglio configurare la coda dove mi metto in ascolto dove mi verranno recapitati i miei messaggi i miei topolini ovviamente all'interno di rabbit una coda deve avere un nome univoco sarebbe un po' complicato magari assicurarsi questa cosa quindi esiste un metodo che si chiama channel qdeclare faccio punto qname così e mi viene generato un nome random da rabbit stesso quindi avrò quel ecco perché prima nella dimostrazione avevo tutti questi nomi strani perché erano generati da questa istruzione dopodiché mi aggancio quindi a quella coda e mi metto in attesa con un basic consumer e all'evento received l'unica cosa che faccio è prendermi l'array di byte lo ricodifico in utf8 e lo scrivo come messaggio a questo punto questa è la configurazione del consumer qui non ho ancora fatto niente quindi qui ho configurato il consumer in particolare appunto cosa succede quando ricevo mi viene notificato un nuovo messaggio e qui a tutti gli effetti mi metto in ascolto channel il punto basic consume dico la coda l'auto acknowledge del messaggio così viene cancellato dalla coda e il mio consumer che sostanzialmente contiene le regole di base e il comportamento che ho definito qui per lo scodamento va bene poi il programma resta in attesa in maniera infinita qui in fondo bene per quanto riguarda l'implementazione del template publish subscribe con rabbit and queue per oggi abbiamo finito se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto metti un mi piace iscriviti al canale così sarai notificato sull'uscita di nuovi contenuti ciao 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 ciao